Nessuna fonte ufficiale britannica ha per ora fornito dettagli sull'identità dell'autore dell'attacco di ieri al Parlamento di Londra. Le autorità sanno chi è, ma per il momento non lo rendono noto e invitano tutti al massimo riservo. Il rischio è quello di intralciare e di inquinare le indagini scattate immediatamente dopo l'attacco. Ieri notte le operazioni della polizia britannica si sono concentrate, in particolare a Birmingham, dove sono state arrestate sette persone. Birmingham è anche la città in cui sarebbe stato noleggiato il SUV utilizzato dal terrorista nell'attacco al Parlamento britannico. Se da un lato resta volutamente ancora un mistero l'identità del killer, non lo è mai stata invece la dinamica di quanto accaduto intorno a Westminster. In questo caso è tutto chiaro, con una metodologia ormai tristemente nota il killer ha tentato di investire più persone possibili a bordo di questo SUV scuro. Poi, una volta terminata la sua corsa contro la barriera che delimita il perimetro del Parlamento britannico, è sceso dall'auto con due coltelli in mano e ha provato a dirigersi verso l'ingresso prima di essere definitivamente fermato. Dietro di sé ha lasciato una lunga scea di sangue, 4 morti e 40 feriti, tra questi anche due ragazzi italiani che fortunatamente stanno bene, a differenza di altri 29 che lottano adesso tra la vita e la morte in ospedale. Tra le vittime c'è anche Aisha Freyd, 43 anni. È stata investita dall'attentatore mentre andava a prendere a scuola i suoi figli di 8 e 11 anni e poi c'è il poliziotto eroe, Keith Palmer, 48 anni, ha provato a fermare l'attentatore a mani nude ma è stato accoltellato mortalmente.